Un voto contrario per esprimere disappunto in generale al regolamento delle fiere che non è stato mai modificato. Così il consigliere di Forza Italia Luigi La Civita spiega la contrarietà espressa insieme al suo collega della minoranza Alessandro Lucidi Sbic in merito ad un parere ai sensi del regolamento comunale per il commercio approvato a maggioranza lo scorso venerdì nella Commissione Sviluppo Economico. La Civita sostiene che agli appelli della minoranza di dare qualità alle fiere non hanno fatto seguito interventi nonostante le promesse e dice che come al solito non sono state mantenute. Le critiche vengono rivolte all'organizzazione di appuntamenti fieristici privi di qualità con proposte scadenti, inutili e senza progettualità che contraddistinguono negativamente la città prosegue Luigi La Civita che parla di menefreghismo della maggioranza In Commissione afferma ancora siamo stati noi a garantire il numero legale al cospetto delle assenze che si sono registrate da parte della maggioranza Per l'esponente della minoranza insomma vengono di fatto riammesse fiere che non corrispondono alle esigenze della città Nel calendario dei mercati, delle fiere e delle feste del prossimo anno stilato dal Comune oltre al tradizionale mercato ambulante di Piazza Garibaldi sono previsti il mercatino delle Pulci con cadenza mensile il secondo sabato e la seconda domenica di ogni mese la festa di San Giuseppe a marzo nella frazione Marane la festa di venerdì e sabato santo il 25 e 26 marzo in Piazza Garibaldi la festa della Santa Pasqua il 27 marzo in Piazza Garibaldi con la vendita di giocattoli, articoli ludici e dolciumi la festa di San Panfilo il 27 e 28 aprile in Piazza Carlo Tresche e Viale Roosevelt la festa di San Giuseppe Artigiano il 30 aprile e il primo maggio nella località Marane Casenuove la festa di San Pietro Celestino a maggio nella frazione Bagnaturo la festa di Sant'Antonio il 13 giugno in Viale Sant'Antonio la festa di San Francesco a luglio nel piazzale San Francesco la festa della Madonna degli Angeli il primo e il 2 agosto nella frazione Badia la festa di Santa Liberata a settembre in via Coronacchiola la fiera dell'artigiano e dei prodotti tipici nelle regioni d'Italia il lunedì e il martedì dopo Pasqua lungo il centro storico la fiera Benvenuta Estate nella prima domenica e primo lunedì di giugno la fiera Sulmona Sposa a giugno nel cortile dell'Annunziata la fiera Città di Sulmona il lunedì e il martedì successivi a Ferragosto lungo corso video la fiera del Gusto nella prima domenica e lunedì di settembre e la fiera dell'artigianato artistico e dei presepi l'8 dicembre nel locale sottostante l'auditorium del Palazzo dell'Annunziata la fiera del Palazzo dell'Annunziata